Il diritto di famiglia e le carte deontologiche è il tema dell'incontro di oggi, un momento di formazione, uno che apre le attività promosse dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Noi giornalisti non possiamo esimerci ovviamente dall'essere ben consapevoli di queste problematiche appunto. Questo incontro che dà 5 crediti proprio perché è deontologico vede la presenza appunto di altissimi professionisti, di gente di una elevatissima preparazione come la dottoressa Marino e l'avvocato Mazzamuto, nonché la presenza del collega Stelio Zaccaria che tutti sicuramente qui ad Agrigento conoscete perché è appunto non solo il capo della redazione della Sicilia per appunto la città di Agrigento ma è anche il segretario provinciale della Sostampa. Noi speriamo con questo primo incontro di avere veramente inaugurato la stagione nuova della formazione permanente e continua che non mancheremo di fare avere ai colleghi tutti. sempre gratuitamente così come abbiamo fatto finora. Tema di oggi di questo corso di formazione è il diritto di famiglia ma nello specifico le problematiche legate al nucleo familiare, ai soggetti componenti del nucleo familiare e un po' il riferimento all'esterno e quindi alla società. Il mediatore familiare quale terzo imparziale rispetto alla coppia che interviene insieme ad altri professionisti coinvolti per cercare di trasformare quella che è la conflittualità proprio in creatività riorganizzativa a favore della coppia. In particolare diciamo la coppia è una diade che condivide il linguaggio, un nucleo semantico affettivo e quindi si muove attraverso un concetto di reciprocità affettiva ma soprattutto con funzioni di identità e rispecchiamento. Ma chiaramente prima di parlare della coppia, della crisi della coppia abbiamo messo in evidenza tutti quelli che sono i caratteri di questa nostra società postmoderna. Purtroppo l'elemento fondamentale si è visto e lo vediamo non solo per ciò che riguarda la crisi della coppia ma anche nel rapporto figli, genitori, educatori. L'elemento essenziale è iniziare i livelli di sensibilità perché purtroppo oggi abbiamo una società in anomia, un'apatia della psiche dei giovani, i giovani che soffrono di affievolimento dei legami emotivi, di sindrome motivazionale. Quindi in realtà ho analizzato tutte quelle che sono delle variabili dipendenti dentro tutto quello che è la coppia. Grazie a tutti.